Oggi vi parliamo del pericolante marcepiede lato sud del plesso scolastico Ierace di Lazzaro, divenuto oramai impraticabile al punto che i rami di una filiera di alberi di pino si protendono fino ad altezza bambino, estendendosi sulla strada comunale Traversa 2 via nazionale a rimetterci e l'integrità fisica dei passanti, oltre che la circolazione veicolare. Lo stato dell'arte indica la necessità di provvedere alla solerte condizione attuale mediante la sistemazione degli alberi, delimitando nel frattempo il marcepiede con transenne metalliche e non il consueto utilizzo del nastro segnaletico bianco-rosso, denuncia l'Ancadic. Alberi questi che oltretutto sono divenuti nel tempo oggetto di attacchi della processionaria, con nidi già ben piantati e ciò destra allarme in quanto in prossimità delle scuole e dei luoghi frequentati dai bambini.